L'amore è donazione, donarsi l'uno all'altro. Allora se farete questo sarete felici, se farete questo sarete beati. E la vostra vita, anche se ci saranno tempeste, piogge, il Vangelo parlava di venti, bufere, virus, il vostro amore sarà fondato sulla roccia. E la roccia per noi è Cristo Gesù e nessuno vi potrà mai farvi del male, nessuno. Gesù e nessuno vi potrà mai farvi del male, nessuno vi potrà mai farvi del male. Gesù e nessuno vi potrà mai farvi del male, nessuno vi potrà mai farvi del male, nessuno vi potrà mai farvi del male. Gesù e nessuno vi potrà mai farvi del male, nessuno vi potrà mai farvi del male. Gesù e nessuno vi potrà mai farvi del male, nessuno vi potrà mai farvi del male. Gesù e nessuno vi potrà mai farvi del male, nessuno vi potrà mai farvi del male. Grazie per la visione Francesca, ricevi questo anello, segno del mio amore e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e della mia fedeltà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Lucio e Francesca sono sposi in Cristo. Grazie. 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 Grazie.